Per rivierasport.it siamo con il portiere dell'ospedaletti Farsoni, per te una prestazione notevole con diversi grandi interventi che non sono bastati però per la vittoria della tua squadra? Sì, speravamo di portare a casa il risultato, abbiamo lavorato in settimana per fare il meglio possibile, non ci siamo riusciti. Gli interventi siamo lì apposta, sono contento in parte per la prestazione però alla fine il risultato che conta, gli interventi vengono cancellati dal risultato. Ecco decisivo il calcio di rigore, non hai potuto far nulla per prenderlo, Tarantolo l'ha battuto davvero bene. Sì, Paolo, io conoscevo lui e lui conosceva me, quindi era una sfida tra amici, è stato bravissimo, ha battuto un gran rigore e andiamo avanti. Bisogna pensare già alla partita di domenica prossima. Comunque siete in una zona di classifica soddisfacente, direi. Sì, la classifica diciamo che poteva essere sicuramente migliore, abbiamo lasciato tanti punti per strada, a partire dai due punti con la Cairese con un errore mio e altri episodi che nelle partite ci hanno penalizzato. Potevamo essere sicuramente più in alto, però lavoriamo per migliorarci. Ok, grazie.